Ciao ragazzi, sono Barry. Lavoro da anni nell'azienda di concilia. Ecco fatto! E ho un amore... ciao ciao, impossibile. Su, andiamo. Finché un vecchio disco... Capito, ho un'idea! Un'idea fantastica! Quale idea? Salve, gente! Iscrivetevi alla nostra straordinaria gara canora. Chi si aggiudicherà il premio di 10.000 dollari? Una gara sta per cambiare la mia vita. Lei non è stato selezionato! E riuscirò a farmi amare da Arisa. Ops, volevo dire Gloria. Taccami il ritmo! No! Per chi non crede più nei sogni, venite a scoprire come le cose possono cambiare. Dal 10 aprile, Barry, Gloria e i disco Worms vi aspettano al cinema. Adesso salta sulla folla! Fermo lì, fermo lì, non chiudere ancora il video perché ho notizie sul franchising di Wolverine. Il regista James Mangold, in una risposta data su Twitter ad una fan che gli domandava la tempistica per le riprese di The Wolverine 3, ha risposto che potrebbero iniziare dopo X-Men Apocalypse, con o senza Hugh Jackman. È probabile che quindi vedremo questo prossimo capitolo non prima del 2017. E voi, chi vorreste vedere al posto di Hugh Jackman se decidessi di non tornare sul set di Wolverine? Fateci sapere la vostra opinione commentando qui sotto. E iscrivetevi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in uscita. Ciao!